Erano le 2.30 della notte quando due ristoratori chiusi il locale in Corso San Felice stavano dirigendosi verso le loro auto per fare ritorno a casa, quando tre soggetti, due giovani e una ragazza, li hanno affrontati intimando loro di farsi consegnare i portafogli. Brandendo un cavatappi in mano a uno dei due giovani con il volto coperto da un cappuccio, hanno minacciato di usarlo a mo' di coltello, ma i due ristoratori hanno provato a dialogare per evitare violenze. I rapinatori, compreso che non avrebbero ottenuti i portafogli, sono passati le vie di fatto scagliandosi con violenza contro i malcapitati. Calci, pugni, qualche fendente è andato a segno anche sul volto, fortunatamente solo sfiorando un occhio di un ristoratore. L'altro, pur con un dito rotto, è riuscito a bloccare a terra uno degli aggressori, un volto già noto alle forze dell'ordine fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno portato in caserma ed arrestato. Ora è ai domiciliari in attesa dell'esito dell'udienza di convalida. Sul posto anche due ambulanze che hanno prestato le prime cure. L'ennesima aggressione nel quartiere scuote i cittadini che si sentono sempre più sotto assedio, in particolare proprio in questa zona. Residenti e commercianti sono preoccupati per l'aumento del degrado, soprattutto sociale, derivato dallo spaccio di droga. Purtroppo, sottolineo che questa amministrazione per il momento è stata incapace di debellare e, diciamo, a meno che controllare questo fenomeno. Cosa bisognerebbe fare? Partire da dove? Sicuramente va bene se vogliono ripristinare i vigili del quartiere, però secondo me non ha senso farli circolare in quartiere più lontani come Laghetto o cose simili, ma devono presidiare il territorio sensibile che è via Torino, Corso San Felice, via Di Mille e tutto questo quadrilatero qui. Da scorsa settimana alcuni rappresentanti del comitato Aiutiamoci a Difenderci erano stati in questura per chiedere aiuto, soprattutto quando cala la notte. Qui il quartiere cambia decisamente volto ed è decisamente sconsigliato uscire, come dimostra l'ultimo violento tentativo di rapina. Per Fratelli d'Italia è l'organizzazione della sicurezza predisposta dal comune che va rivista. Non basta un giro di pattuglia in più. Non è sufficiente perché le pattuglie, anche nell'orario serale, sono limitate. Sappiamo che la polizia locale è sfruttata in maniera, secondo noi, non adatta, come i vigili quartieri che sono, per nostro avviso, inutili. Quindi vanno riorganizzati tutti i servizi e formato il personale adatto per compiere questo tipo di azioni.